Musica Ben trovati a tutti voi a un nuovo appuntamento con la nostra città tv, 7 giorni di notizie dal comune di Prato, la trasmissione di informazione e approfondimento a cura dell'ufficio stampa del comune. Siamo arrivati a Natale come ormai tradizione, il sindaco Matteo Biffoni e la sua giunta ripercorrono l'anno guardando la strada che è stata fatta fino adesso. Un percorso lungo nato dalla rielezione a maggio, ma ce lo racconta direttamente lui in un'intervista rilasciata ai nostri microfoni. Sentiamo. È un po' più facile il nuovo inizio perché hai la confidenza con una macchina molto complessa, molto difficile da manovrare, in cui investi in realtà il primo anno a capire esattamente come funziona, quali sono i meccanismi, perché per quanto avessi l'esperienza consigliere comunale, guidarla, gestirla da sindaco è completamente diverso. Quindi è chiaro che una serie di obiettivi che ci avevamo messi in corso e che abbiamo costruito nella scorsa legislatura adesso devono andare, devono andare a obiettivo. La palazzina nuova dell'ospedale, il parco urbano al posto del vecchio ospedale, il sottopasso del soccorso e poi continuare con il lavoro che è stato impostato. Dico così, siamo a fine per esempio della certificazione di tutte le scuole della nostra città che abbiamo iniziato nel primo mandato e che adesso stiamo proseguendo e che concluderemo veramente a breve. C'è tutta una serie di interventi già anche finanziati precedentemente che adesso devono andare a compimento, penso negli interventi su una serie di impianti sportivi, partire dalle fiscine verranno tutte quanti ristrutturate per poi andare anche alla preparazione del percorso per la nuova piscina olimpionica e poi ovviamente un lavoro di ricollocamento della città rispetto a quella che è l'opinione esterna perché io voglio continuare in questo lavoro di riposizionamento, di idea della città che secondo me in questi anni abbiamo trascurato tutti quanti troppo e che solamente adesso, piano piano, con anche iniziative editoriali nazionali o televisive che hanno parlato di noi in maniera diversa da come si parla abitualmente di Prato finalmente raccontano della nostra città. Io vorrei l'immagine che secondo me poi è questa città, una città che corre molto, una città molto energica, una città che ha grande forza, che ha passato comunque vada la crisi definitiva, devastante, dell'età degli anni 2000, 2005, 2006, 2007, sono quegli anni lì comunque vada, non c'è stato il declino, siamo tornati ad essere il primo distretto tessile europeo insomma con le contraddizioni di una città che è cresciuta troppo rapidamente perché è chiaro, qui dagli anni 60 in poi è stato un continuo crescere rispetto ad altre città siamo una città che continua ad aumentare i suoi abitanti sia perché vengono da città vicinissime come Firenze o Pistoia sia perché vengono dall'altra parte del mondo e che pur ha combattuto questo tipo di difficoltà traendone in alcuni casi degli ottimi benefici in altri casi commettendo degli errori ma insomma raccontando una città che comunque vada in piedi ad affrontare i temi del mondo noi abbiamo un settore economico maturissimo, più maturo di tutti eppure siamo ancora in cima all'export in Europa e nel mondo viviamo una città che ha oltre 120 etnie diverse con una comunità cinese fra le più importanti d'Europa eppure le nostre scuole funzionano e funzionano bene abbiamo le contraddizioni anche di zone, penso è Marolotto Zero che fanno fatica, che stanno facendo dei passi in avanti ma che ancora non sono al livello però vorrei raccontare tutto questo vorrei raccontare anche di una città che quando la gente la scopre la viene a visitare, la viene a vedere viene per i nostri spettacoli o per i nostri eventi culturali va via soddisfatta, ci sta bene, ci esprime parole di apprezzamento ecco, mettere insieme tutto questo abbiamo probabilmente raccontato troppo le difficoltà che ripeto, non vanno sottovalutate abbiamo raccontato troppo poco e male invece quanto di bello e di positivo c'è in questa città io vorrei mettere insieme tutto questo e raccontarla al paese finalmente abbiamo una data certa che è febbraio 2020 dove il Consiglio di Stato ci dirà a chi è stato affidato definitivamente quel cantiere questo è un esempio classico della burocrazia italiana della fatica che si fa tutti guardate, nonostante la buona volontà figuratevi se non era interesse nostro far partire quel cantiere come quello del sottopasso del soccorso come appunto la Palazzo Novo e l'ospedale prima delle elezioni è umanamente però abbiamo accumulato più di un anno di ritardo con le scartoffie, diciamo così, di preparazione progetti, vidimazione dei progetti via libera ricerca dei finanziamenti eccetera poi sono partiti i ricorsi al TAR e abbiamo perso sostanzialmente un altro anno ora a febbraio arriverà la sentenza il 20 febbraio è fissata l'udienza che ci dirà chi delle ditte hanno partecipato sarà quella vincitrice e quindi partiremo il cantiere quello che noi sappiamo è che è chiaro il secondo mandato parte con una sprint molto più forte e tutte quelle cose che sono state messe in ponte ormai le possiamo toccare le possiamo vedere e questo ci permette anche con la tranquillità di sapere che le cose che sono state messe in ponte arrivano di iniziare a programmare per i prossimi anni scuola impiantistica sportiva viabilità che è un tema che ci tutti quanti coinvolge pesantemente sono i temi quindi significa il trasporto pubblico significa i collegamenti con Firenze significa tante cose sono i temi su cui noi bisogna necessariamente confrontarci in questi anni c'è il grande tema del reuso dell'economia circolare su cui noi siamo molto avanti che bisognerà sviluppare sia come attività amministrativa ma anche un'attività economica con le nostre aziende perché credo in lì noi ci si possa trovare davvero un pezzo di nuova attività auguro a tutti noi un felice Natale delle felici festività invito tutti a vivere il centro storico e le frazioni ci sono eventi un po' dappertutto in particolare ovviamente in centro con mostre inaugurazioni eventi l'albero di Natale il trenino sui ragazzi coinvolti insomma vivere la nostra città dargli la massima vicinanza perché credo che questo sia il modo migliore a partire da noi pratesi per dire a Prato che le vogliamo bene per dire che gli auguriamo un buon Natale e che diciamo tutte le fatiche che facciamo sono tese a far crescere la nostra comunità e con questo è tutto anche per oggi vi ringrazio della vostra attenzione e prima di lasciarvi agli altri programmi di Toscana TV vi auguro anche a nome della nostra redazione un buon Natale un felice anno nuovo e la nostra città TV tornerà a farvi compagnia nel 2020 arrivederci a